Come proteggere il nostro cavallo da mosche e moscerini con la pomata Hippoderm. Eccoci ad un altro Tip Appointment Lovorsis. Let's tip! Si tratta di mosche, tafani o moscerini pungenti che si filano nelle orecchie o si appoggiano sulla pancia o di punture di insetti che causano in genere arrossamento e rigonfiamento della pelle accompagnato da prurito e bruciore, formulata con la calendula cicatrizzante e rinfrescante, arricchita con la vitamina A e olio di limma antibatterico e antiparassitario. Aiuta anche a ricostruire il mantello idrolipidico, quella patina formata da acqua e lipidi che protegge la pelle dall'aggressione esterne. Le orecchie sono, per esempio, uno dei siti preferenziali per la localizzazione delle lesioni da mosche e moscerini. Basta applicare un leggero strato di Hippoderm nei punti più delicati e poi mettere la Flawing che offre in assoluto la migliore protezione per occhi e orecchie. Nel nostro caso, i moscerini si sono particolarmente accaniti in questo preciso punto del nostro cavallo, dove noi applicheremo un abbondante strato di Hippoderm. Cosa fare di più? L'olio di limma allontana gli insetti dalle piccole ferite e dall'escorazione sulla pelle del cavallo, perché ha un'azione repellente. Sulle ferite consigliamo quindi l'uso di Hippoderm fino alla completa rigenerazione del tessuto cutaneo. Dove si acquista? Nei migliori negozi di articoli di equitazione oppure sul nostro shop online. Vi ringraziamo per averci seguito e se vi è piaciuto il nostro tip, lasciateci un like. Ci vediamo al prossimo Love Wars is Tips!